Oggi 2 ottobre si riparte con la grande gara, settembre vincitore, adesso il Roccia sta facendo di tutto per riuscire a battermi, ma non ce la farà, osservate il Roccia durante la sua preparazione a Tavica, siamo pronti, possiamo andare e comincia la grande gara, osservate, laghetto deserto, solo per noi, in bocca al lupo, grande pescata del campione, guardate, osservate la preda, adesso ve la faccio vedere, perché così il Roccia non rompe più le balle, pescata illegalmente, no, no, cagnotti, cagnotti, fatti che la guardiamo prima sdraiata, la belva, no, voglio dire, con questa io mi sono assicurato la prima di ottobre, guardate, mmm, bella, guarda in Roccia, guarda in Roccia, un salutino a Roccia, umile, adesso la mettiamo nella Nassa, sperando che non mi scappi prima, se no sono fottuto, eccola qua, che mi porta alla vittoria, posso andare a bere il caffè tranquillamente, il campione ormai ha già dato, ragazzi, buon divertimento e alla prossima, e per la seconda volta un'altra bestia, adesso ve la mostro, è anche questa, perché, eccola, eccola, e due, e due, è leggermente più piccola, girala bene, guarda, 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 guarda come è questo, guarda, un altro trofeo, guarda, un altro trofeo, faccia da merda, e due roccia bastonato, nostro grande Emiliano è, per la prima volta, la bestia, la bestia, la bestia, la bestia, ho, bene, prenda in mano il trofeo, testa e coda, faccio vedere il trofeo, bellissima, fulgido, dio caro, tra le bestie, son tutte qua da noi, Italia 1, bravo, ci dica quello pensa no ci dico quello che pensa si può voltare un attimino aspetta ecco così va bene così si volti un attimino si si umile si umile no vediamo la la montatura atavica ma va cagata me la faccio aperta ma vada via ma vada via ecco ecco sta arrivando sta arrivando che è umile galleggiantino all'inglese pieno di cagnotti di merda ecco ecco lancio lancio atavico inglese vuole prendere i pontine ma mi dica roccia mi dica roccia come va la prima di ottobre dunque a livello tecnico ti ho martirizzato a livello tecnico ma a livello pubblicherà su filmati vecchi ti ho castigato